Una buona giornata e buon sabato a tutti quanti voi. È giusto che ci sia un confronto serio in Parlamento sulle fine vita, mentre non ho dubbi che esista un diretto alla vita. Dico che da dubitare ci sia un diretto alla morte. Il premio al conte è intervenuto da Ceglie Messapica sul delicato tema del suicidio assistito. Eppure con la premessa di non voler condizionare il dibattito in corso, mette in campo le sue convinzioni personali. Se si stabilisse un diritto alla morte dice quantomeno ai medici dovrebbe essere garantito il diritto all'obiezione. Così il Presidente del Consiglio dicendo che bisogna fare la legge e quindi è propenso alla massima prudenza. E non poteva essere diversamente visto che il premio si è autocollocato nel ponte dei cattolici democratici. Due importanti eventi hanno segnato la città di Cirignola nel Foggiano ieri tra la mattinata ed il poveriggio. Incominciamo con la mattinata perché l'Istituto Comprensivo Don Mosco Battisti ha partecipato come tanti all'iniziativa di Quick Days for Future, lo sciopero del cambiamento climatico voluto dalla sedicenne attivista Greta Thunberg. La scuola l'ho fatto con un flash mob e vediamo le immagini e anche con l'intervista alla neodirigente scolastica Petrillo. Ascoltiamola.